Buon viaggio, buona domenica da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Un chilometro di coda in A1, coda per un veicolo fermo tra Sassomarconi e il Bivio A1 variante di Valico in direzione Firenze. Ci sono ancora code sulla Firenze e Pisa Livorno dopo un incidente avvenuto tra Montopoli-Valdarno e San Mineato in direzione Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra il Bivio A11 e A12 e Alto Pascio direzione Firenze. Lavori a Firenze in via delle Romite, lavori relativi all'illuminazione pubblica, da domani a venerdì 14 sarà interrotta la circolazione tra via Volterrana e via Santa Chiara. Infine i treni, il regionale 19-303 Firenze-Santa Maria Novella-Borgo-San Lorenzo è cancellato da Vichio a Borgo, viaggiatori con bussa. È tutto per il momento, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.